Storia della razza. La storia dello staforcire Bull Terrier risale a centinaia di anni. L'origine della razza è diversa, ma la maggior parte degli esperti ritiene che discenda dagli Old English Bulldog, dietro i quali c'erano cani simili a mastini. All'inizio, il mastino veniva usato in Inghilterra per adescare i tori, ma presto i proprietari si resero conto che questo cane era troppo lento, ingombrante. Forse la figura più notevole riconosciuta in Inghilterra come il creatore della nuova razza di cani, fu il duca di Hamilton. Durante la sua giovinezza, nel 1770, si interessò ai cani, e in seguito alle volui stesso bulldog leggeri e veloci dai cani che aveva. Parallelamente all'evoluzione che hanno subito i cani prepotenti, nella società sono state imposte restrizioni allo svolgimento di spettacoli crudeli. Il nome terrier deriva dalla parola latina terra, che significa terra. Il nome bulldog era usato per tutti i tipi di cani coinvolti nell'adescamento di orsi, tori, combattimenti tra cani e topi da caccia. I cani che sono stati allevati a seguito dell'incrocio hanno ricevuto il nome bullant terrier. A metà del XIX secolo, i bullant terrier iniziarono ad essere esportati dall'Inghilterra negli Stati Uniti, e in altri paesi. L'esportazione è avvenuta a causa del reinsediamento dei residenti in cerca di una vita migliore. Negli Stati Uniti, la maggior parte dei proprietari, ha continuato a utilizzare i propri cani nel combattimento e nell'allevamento di cani, mentre il combattimento tra cani, è stato vietato in Gran Bretagna dalla seconda metà del XIX secolo. Le prime esposizioni canine in Gran Bretagna iniziarono a tenersi nel 1861. I partecipanti e gli amanti delle mostre, iniziarono a unirsi nelle società di allevatori di cani. Nel 1939, la razza Staffordshire Bull Terrier fu ufficialmente riconosciuta dall'English Kennel Club. Tra il 1939 e il 1970, la popolazione dello Staffordshire Bull Terrier raggiunse più di 2000 persone. Dal 1972, lo Staffordshire Terrier allevato in America, è stato chiamato American Staffordshire Terrier, e nel 1974 lo Staffordshire Bull Terrier è stato inserito nei libri genealogici come razza separata. La popolarità delle mostre, cresce ogni anno e ora un numero crescente di tori dello Staff, sta diventando puramente cani da esposizione. Una razza di cani da combattimento, allevata incrociando bulldog inglesi e vari terrier per tori da combattimento. Quando questo gioco crudele fu bandito, i cani furono usati come guardie, guardie del corpo e compagni. I Bull Terrier professionalmente addestrati e ben educati sono abbastanza gestibili, fedeli al proprietario, fedeli ai suoi familiari. Ma hanno bisogno di controllo. Il cane non è per principianti. Punti salienti e fatti interessanti. Lo Staffordshire Bull Terrier è stato riconosciuto dal Kennel Club of England nel 1935. Lo Staffordshire Bull Terrier è stato riconosciuto dalla AKC nel 1974, ed è la sua centoventesima razza. Il primo club show della razza, ebbe luogo nell'agosto 1935 a Cradley e Atnelle West Midlands, dove furono iscritti 60 cani. Lo Staffordshire Bull Terrier è stato classificato come un gruppo di Terrier. I primi due membri dello stesso sesso a rivendicare il campionato in Inghilterra, furono Lady Eve e Gentleman Jim nel 1939. Gli esperti generalmente concordano sul fatto che la storia della razza, può essere fatta risalire a cani simili a Mastini attraverso il vecchio Bulldog, che, incrociato con British Terrier, ha dato i primi Bull Terrier. Nel Regno Unito, gli American Pit Bull Terrier sono talvolta pubblicizzati come Irista Forcire Bull Terrier nel tentativo di eludere il Dangerous Tossat 1991. L'Irista Forcire Bull Terrier non è riconosciuto come razza dall'Irish Kennel Club, o da qualsiasi altro registro di razza ufficiale. L'editore della rivista Dostoday ha descritto la razza Irista Forcire Bull Terrier come finzione completa. Aspetto. Lo Staforcire Bull Terrier è un cane robusto, forte e molto attivo. Algarrese raggiungono un'altezza di 35 al 40 centimetri. Questi cani si distinguono per un collo corto e muscoloso, una testa corta e voluminosa, un cranio largo, muscoli delle guance sviluppati, labbra serrate e mascelle forti, un'ampia canna nasale e una fronte pronunciata. Le orecchie sono semierette e hanno la forma di una rosa. Gli occhi sono scuri, rotondi. Altre caratteristiche della razza, sono le zampe dritte e ampiamente distanziate, una coda bassa e di media lunghezza che non si arriccia mai, simile al manico di una vecchia pompa. Petto profondo. Staforcire Bull Terrier è una razza a pelo corto. Il mantello è monostrato, senza sottopelo. Colori. Rosso, fulvo, bianco, nero, blu o uno qualsiasi di questi colori con il bianco. Qualsiasi sfumatura di tigrato o qualsiasi sfumatura di tigrato e bianco. Il nero focato e il colore del fegato sono indesiderabili. Tratti distintivi del carattere. Anche ai tempi dello sport sanguinario, Staford è sempre stato un cane da compagnia e da compagnia, e ancora di più oggi. Sono considerati leali, coraggiosi e affettuosi. Hanno la reputazione di essere battaglieri, e, quando vengono sidati da un altro cane, tendono a non tirarsi indietro. Lo Staforcire Bull Terrier è un ottimo compagno. Il temperamento indomabile è enunciato nello standard di razza. Fedele al proprietario. Può essere aggressivo nei confronti dei congeneri. Manutenzione e cura. Staforcire Bull Terrier dovrebbe fare bene con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Non ci vuole molto lavoro per rendere bello lo Staforcire Bull Terrier. Bagni periodici e spazzolatura settimanale con un guanto di crine, o un guanto per cani per rimuovere i peli morti lo manterranno in ottime condizioni. Le sue unghie dovrebbero essere tagliate almeno una volta al mese. Non lasciarli crescere troppo a lungo, poiché le unghie lunghe possono essere piuttosto dolorose per lui. Pulisci regolarmente le orecchie per rimuovere il cerume in eccesso, e i detriti, che possono causare un'infezione all'orecchio. Il tuo allevatore e il tuo veterinario possono consigliarti buone routine e prodotti per la pulizia, e mostrarti come farlo senza danneggiare il suo orecchio interno. Questa razza richiede un regolare esercizio fisico per rimanere in buona forma mentale e fisica. L'esercizio può variare dall'inseguire una palla, correre con il proprietario in bicicletta, o semplicemente fare una lunga passeggiata nei boschi. Sebbene uno Staforcire Bull Terrier fisicamente in forma possa tenere il passo con un ospite atletico, di solito si salva non appena tornano a casa dopo un buon allenamento. Tuttavia, la razza può essere intollerante al calore, e non dovrebbe mai essere sovraocaricata di lavoro in climi caldi o umidi. Lo Staforcire Bull Terrier è intelligente, facile da addestrare, veloce a reagire, con calma protettivo e può essere un compagno amorevole e divertente. Hanno un ardente desiderio di compiacere e obbedire facilmente alle richieste dei loro proprietari. Tuttavia, ricorda che sono stati originariamente allevati per combattere altri cani, e la maggior parte di loro conserva un forte istinto di preda. Devono essere insegnati a controllare i loro tratti caratteriali per diventare davvero animali domestici ideali. È imperativo che il cucciolo di Staforci sia ben addestrato e coerente fin dall'inizio. Non dovrebbero solo imparare le regole, ma anche riconoscere che devono sempre seguirle. La socializzazione precoce è consigliata per i cuccioli, obbligatoria fino a 18 mesi. Salute. Gli allevatori responsabili selezionano le loro mandrie per condizioni come displasia del gomito e dell'anca, l'usazione della rotula e anomalie oculari, tra cui cataratta giovanile ereditaria, cataratta vitrea primaria iperplastica persistente e cataratta sottocazzolare posteriore. Possono sviluppare diverse forme di allergia cutanea, alcune delle quali possono essere genetiche. Il test del DNA consente agli allevatori di identificare i portatori ed evitare la proleaffetta. Sì un proprietario informato e discuti di qualsiasi domanda o problema di salute con l'allevatore e il veterinario del tuo cane. Prezzo e come acquistare correttamente. Le posizioni di prezzo per staforcire Bull Terrier variano, tutto dipende dal loro tasso di natalità. Un cucciolo ottenuto incrociando cani di diversi paesi, Intermacking, costerà tra 900 e 1300 dollari USA. I cani il cui aspetto è considerato di tutti gli standard, ma i loro genitori non sono così famosi, costeranno tra 600 e 900 dollari USA. Linea di fondo. Staforcire Bull Terrier, inglese Staforcire Bull Terrier è una razza di cane da compagnia. Probabilmente allevato in Gran Bretagna nel XVII secolo incrociando un bulldog con un terrier inglese. Riconosciuto ufficialmente dal Kennel Club inglese nel 1935. Al culmine della sua carriera bellicosa, era abituato ad adescare i topi. Dopo che in Europa, fu bandito il crudele intrattenimento con i cani, gli allevatori di Staforcire Bull Terrier riorientarono i loro cani per partecipare a mostre, competizioni sportive e iniziarono a svolgere un enorme lavoro di selezione in relazione all'allevamento delle qualità di conformazione. Il moderno Staf Bull è un cane da compagnia, un cane di famiglia.